Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين gloria e lode d'Allah Signore dei Mondi e la pace e l'ebnizioso su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e guida e misericordia cari fratelli cari sallallahu alayhi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ben ritrovati nel nostro appuntamento quotidiano con lo studio oggi insha'Allah è la giornata dedicata all'esegesi coranica tafsir al-Quran al-Karim ci siamo proposti di studiare insieme juz amma l'ultimo juz del Corano quindi partendo da surat an-nab' amma et al-saloon che abbiamo già studiato completamente e oggi insha'Allah inizieremo la sura successiva quella di an-nasi'at e quindi insha'Allah come di consueto leggerò la sura dal Corano in lingua araba ovviamente poi insha'Allah leggerò la traduzione e inizieremo subito dopo l'esegesi la spiegazione dei termini dei significati di questa sura è una sura importantissima vedrete è una bella sura è la sura in cui Allah subhanahu wa ta'ala parlerà di nuovo come abbiamo visto nella sura precedente del giorno del giudizio della resurrezione ma vedrete i modi con cui Allah subhanahu wa ta'ala presenterà questo evento importante per tutti e tutte le creature intanto saluto tutti voi insha'Allah per la vostra presenza e tutti quelli che sono presenti tanto scusatemi per l'orario se è un po' tardivo ma mi sono liberato un po' in ritardo oggi allora insha'Allah inizio la lettura di insha'Allah Assalamualaikum Antonella Hajar Assalamualaikum Ruhatollah Barakatuh Come di solito vi ricordarego insha'Allah seguendo قراءة قلون رواية قلون عن Nafi al-Madani insha'Allah Assalamualaikum Ruhatollah Barakatuh Pietro Assalamualaikum Ruhatollah Aya Bismillah A'udhu Billahi Minha Shaitan Rajeem Bismillah الرحمن الرحيم والنازعات غرق والناشطات نشط والسابحات سبح فالسابقات سبق فالمدبرات أمر يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةَ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةَ يَقُولُونَ أَيْنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ إِذَا كُنَّ عِظَامًا نَخِرَةَ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قَالُوا إِذًا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمِّ السَّاهِرَةَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَاءَ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَاءَ فَقُلْ هَلَّكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِثُ إِلَّا عَشِيَةً أَوْضُحَاهَا Allora, Alhamdulillah, quella era la lettura di Surat Al-Nazi'at Saluto a tutti voi che mi avete raggiunto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Avendo concluso con il Mus'haf, lo rimetto e inizio, inshallah, la lettura della traduzione leggerò sempre, secondo la traduzione, quella del fratello Piccardo non so che cos'è, non è collegato ditemi se si sente bene, se va tutto bene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ora inizio, inshallah, la lettura della traduzione intanto vi indico, per chi mi sta raggiungendo ora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh che oggi stiamo studiando insieme Surat Al-Nazi'at tradotta le strappanti violente le strappanti violente chi sono queste? chi stanno strappando in un modo violento? e cosa strappano in un modo violento? ora lo vedremo inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sara Perugini e tutti quelli che mi hanno raggiunto barakallahu fi come Silvia Magaragia assalamualaikum warahmatullahi Khalilovic dado assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anche Rosangela de Rinaldis mi dispiace che sia bloccato non so, spero che sia tutto tornato in norma leggo, inshallah, la traduzione allora in nome di Allah il compassionevole il misericordioso per gli strappanti violenti per i correnti veloci per i nuotanti leggeri per i sopravanzanti con foga per sistemare a ogni cosa il giorno in cui risuonerà il risuonante al quale seguirà il successivo in quel giorno tremeranno i cuori e saranno abbassati i sguardi dicono saremo ricondotti sulla terra quando già saremo ossa marcite dicono sarebbe questo un disastro ritorno un disastroso ritorno ci sarà un solo grido ed eccoli risvegliati sulla superficie della terra non ti giunse o Muhammad la storia di Mosè quando lo chiamò il suo signore nella valle santa di Tuà va da Faraone e in vero è diventato un ribelle e digli sei disposto a purificarti? sicché io ti guidi verso il tuo signore e tu lo tema gli mostrò poi il segno più grande ma quello tacciò di menzogna e disobbedì poi volse le spalle e si distolse convocò i notabili e proclamò sono io il vostro signore l'altissimo lo colpì Allah con il castigo nell'altra vita e in questa in ciò vi è motivo di riflessione per chi è timorato di Allah sareste voi i più difficili da creare o il cielo che egli ha edificato ne ha inalzato la volta e le ha dato perfetta armonia ha fatto oscura la sua notte e ha fatto brillante il chiarore del suo giorno dopo di ciò ha esteso la terra ne ha tratto l'acqua ai pascoli e le montagne le ancorate sicché ne godeste voi e il vostro bestiame poi quando verrà il grande cataclisma il giorno in cui l'uomo ricorderà in cosa si è impegnato e apparirà la fornace per chi potrà vederla colui che si sarà ribellato e avrà preferito la vita terrena avrà in vero la fornace per rifugio e colui che avrà paventato di comparire davanti al suo signore e avrà preservato l'animo suo delle passioni avrà in vero il giardino per rifugio ti interpellano a proposito dell'ora quando giungerà che scienza ne hai per informarli al tuo signore il termine tu sei tu non sei che un ammonitore per coloro che lo paventano il giorno in cui la vedranno sarà come se fossero rimasti sulla terra una sera o un mattino assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh voi che mi avete raggiunto barakatuh fratello Haj Nassar e tutti tutti voi ben ritrovati oggi è il giorno dell'esegesi stiamo studiando insieme l'esegesi di Surat An-Nasi'at non tutti non tutti i commenti mi stanno apparendo sicuramente c'è un difetto tecnico che non so spiegarmi in questo istante spero spero nulla di grave comunque inshallah tanto procediamo con l'esegesi e poi chi non è riuscito a vedere la diretta potrà almeno guardare la registrazione allora Surat An-Nasi'at abbiamo concluso Surat Al-Naba il grande annuncio quell'annuncio che il profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ha portato alla gente cominciando con 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 la gente di Okwaraish la tribù in cui il profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam è stato inviato e con un messaggio universale destinato a tutta l'umanità e quella gente ha negato ha negato che ci sarà un'altra vita dopo la morte che tutti risorgeremo che saremo giudicati da Allah Subhanahu Wa Ta'ala e quell'annuncio che li ha portato hanno cominciato ad interrogarsi sullo stesso e a prendere in giro questo questo avvertimento importante in questa sura vedremo che c'è una continuità perché partiremo dal punto finale della vita terrena sì e come partiremo dal punto finale partiremo dal momento della morte partiremo dal momento in cui l'anima viene tolta viene strappata dal corpo e per questo esorto il nazi'at e il naz'at e il naz'at è strappare tirare con forza ci parlerà inizia parlando del quel momento quel momento in cui questa nostra vita terrena e che in realtà dobbiamo sapere tutti che è la fase più corta della nostra vita c'è stata una vita precedente all'invio dell'anima su questa terra quando Allah subhanahu wa ta'ala ha creato Adamo e ha fatto uscire dalla sua schiena tutte le anime di tutti i suoi discendenti i discendenti di Adamo e ha fatto loro testimoni chiedendo loro se loro testimoniano che è il loro signore ha detto certo che le testimoniamo poi tutte quelle anime man mano venivano inviato sulla terra soffiate i grembi delle madri per prendere posto in questo corpo umano e inizia la vita terrena quella fase dalla creazione di Adamo fino al soffio di quell'animo nel grembo di una madre è una fase lunga sicuramente molto più lunga dal momento o dall'intervallo di tempo che passiamo su questa terra c'è una vita di 80 90 100 anni quella che è ma sempre è una fase corta paragonata a cosa la fase poi nella tomba dopo la morte poi viene la morte dopo la morte si passa una fase nella tomba quella vita intermediaria che poi immaginate le persone che sono morte dall'epoca di Adamo quindi migliaia di anni e poi ci sarà il soffio e tutte le anime risorgeranno e per iniziare la vita quella vita eterna che inizierà con il giudizio e poi per con la vita eterna o in paradiso inshaAllah oppure che Allah ci protegga tutti in inferno perché loro che l'avranno meritato e ora questa sura suratun naziat inizia da quella fase intermediaria quella fase critica in cui l'anima viene tolta viene strappata dal corpo umano chi chi fa questa azione chi si occupa chi Allah subhanu wa ta'ala chi Allah subhanu wa ta'ala ha dato l'incarico di strappare le anime dai corpi lo ha dato agli angeli ed è degli angeli che si parla in questi in questi versetti e sono sono gli angeli che strappano l'anima dal corpo e ora il fatto dello strappo forte perché come dicono i sapienti e come ci ha spiegato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam che la persona in questo caso il non credente quello grappato la dunia e quando viene il momento in cui l'anima viene strappata comincia a vedere il suo destino capisce immaginate colui che negava l'esistenza di Dio dei suoi angeli non ha creduto e li vede ormai coi propri occhi in quegli ultimi istanti della sua vita cosa gli succede è preso di paura la sua anima cerca di fuggire di nascondersi in tutte le parti del suo corpo e quegli angeli che vanno in profondità a strappare a seguire a sprofondare seguendo l'anima per strapparla dal corpo di quella persona ecco ecco quelli che strappano sprofondendo nel corpo della persona per strapparli l'animo invece il credente la sua anima è tolta con gentilezza ecco ora dopo questa piccola introduzione tanto l'esegesi ti spiegherà tutto inizio a leggere dal libro Sofato Tafassili Shaykh al-Sabuni per vedere l'esegesi della surah Assalamualaikum Daniele Messina Assalamualaikum Rahatullah Barakatuh tutti voi che mi avete raggiunto vedo Assalamualaikum Rahatullah Amatullah vedo per certo che c'è un problema tecnico non so se è interrotta completamente la diretta perché vedo più nomi dei quattro che vedo connessi ora non so che cosa è successo Subhanallah c'è un problema tecnico mi dispiace mi dispiace non so che cos'è non so ad ogni modo io procedo inshallah mi dispiace non so se è ritardo l'orario che ha provocato questo almeno ora leggo l'introduzione la premessa riguarda ok bene Arbin non so c'è qualcosa che non mi sto spiegando allora allora suoratun nazi'at suoratun makkiyah wa ayatuhasitton wa arba'un sempre quando vengono presentate le surah ah ecco si blocca alla diretta non so ora non so dovrei essere connesso alla rete in un modo corretto la rete ma procedo inshallah allora come vi dicevo come sappiamo quando vengono presentate le surah del cor'an il karim hanno questa una caratteristica o sono delle surah meccane makkiyah oppure surah madaniyah makkiyah sono le surah che sono state rivelate nella nella la prima fase dell'era islamica quando il profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam predicava a makka con un numero di credenti ridotto ma che aumentava man mano ma dove c'erano tantissime persecuzioni e dove la maggior parte delle surah parlano di iman parlano di quello che avverrà parlano dell'aldilà parlano del credo per per affermare il credo dei credenti per invitare alla fede corretta quella dei miscredenti quindi vedremo come in questa surah è sempre si parla dell'aldilà non ci sono ordini particolari di compiere preghiera di dare l'eomosina no perché là si sta parlando della fede e quindi la maggior parte delle surah le surah maqiyah ci parlano della fede dell'iman di tawhid e di adorare allah subhanahu wa ta'ala è una surah quindi vi dicevo maqiyah surah annazi'at i strappanti con forza così è la traduzione è la surah numero 79 nel corano e i suoi versetti sono 46 بين ايدي la surah la surah la surah maqiyah che suon la surah التي tranne con la l'arri l'arri la 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 l'arri e l'arri la l'arri maqiyah quindi c'è l'arri che parla il che il si sa l'arri maqiyah e la maqiyah come tutte le sura rivelate a Mecca si occupa dei fondamenti del credo, dell'unicità di Allah, dell'unicità del messaggio di tutti i profeti, parla della resurrezione, della premiazione e il fulcro della sura parla del giorno del giudizio, le situazioni del giorno del giudizio e dell'ora, quindi quando verrà quel giorno in cui tutti risorgeranno e la gravità dello stesso giorno è ciò che avverrà per i credenti e ciò che avverrà per i miscredenti e quelli che erano iniqui, ingiusti, tiranni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a tutti voi. E' la sura al-Karimah bil-qassam bil-maraikal-abrar. Allah subhanahu wa ta'ala ha iniziato questa sura giurando, giurando su gli angeli, per i strappanti, e questo è un giuramento. Noi come credenti quando giuriamo, se dobbiamo giurare, non giuriamo su nient'altro tranne Allah subhanahu wa ta'ala. Ma Allah, l'Altissimo, giura su quello che vuole lui dalle sue creature per anche sottolineare l'importanza di alcune cose o il loro valore. Qua Allah subhanahu wa ta'ala giura per gli angeli. L'angeli sono tutte creature di luce, obbedienti, anche quelli che fanno dei ruoli duri, come l'angelo Malik, che è il custode dell'inferno. E' sempre un angelo, non sono creature che hanno cattiveria o malefica, assolutamente no, sono angeli obbedienti ad Allah subhanahu wa ta'ala. Sto sempre vedendo la difficoltà di cui la rete mobile, sperando che... Vedi Rosangelo e dice io non vedo nulla. Subhanallah, subhanallah. Mi dispiace. Mi sono lasciato sulla rete mobile togliendo il wifi, immaginando che sia quello. Ad ogni modo, anch'io noto qualcosa di anomero. L'immagine è fluida, ma è un numero molto ridotto che non corrisponde ai nomi. Già vedendo i nomi di chi sta guardando c'è una discordanza. Purtroppo c'è una cosa ora che Facebook o tutte le piattaforme di tanto in tanto fanno aggiornamenti, fanno patching della loro piattaforma e questo può creare dei bug che noi ce ne accorgiamo solo dopo. Ma almeno ora approfitto di questo momento per almeno fare la premessa della surah, che purtroppo riprenderemo ovviamente la prossima settimana, insha'Allah. Allora, ابتداد سور الكرمى, questa surah, questa nobile surah ha iniziato con il giuramento di Allah subhanahu wa ta'ala su queste nobili creature che sono gli angeli. Ma quale angeli in particolare? Allah subhanahu wa ta'ala ha creato gli angeli e tante tra di loro ha dato dei compiti, dei ruoli che fanno senza disobbedire mai ad Allah subhanahu wa ta'ala. E in questo caso parla degli angeli, quelli che strappano, quelli che strappano le anime, il ruo, lo spirito, l'anima, dei credenti con gentilezza e misericordia. Assalamu alaikum fratello Luca Motta. Stiamo leggendo l'esegesi di Suor Anton Anasiat. Quindi questi angeli che strappano le anime nel momento della morte, per i credenti lo strappo dell'anima viene fatto in modo gentile, in un modo dolce. Una volta una sorella ha chiesto, ma è vero che quando l'anima sta uscendo dal corpo è qualcosa di molto doloroso, qualcosa che fa soffrire? Perché lo sarebbe nei confronti dei credenti, se sono credenti che meritano bene, meritano la ricompensa di Allah, perché Allah li farebbe soffrire nel momento dell'uscita dell'anima. No, infatti per i credenti l'anima viene presa, viene tolta, perché se tu sei un credente e ormai stai vedendo gli angeli che vengono a prendere la tua anima, sai che ciò che avverrà dopo non può che essere molto meglio di tutta la vita o di qualsiasi cosa, di qualsiasi affetto che tu possa avere nella vita. Quindi non pone resistenza quell'anima quando viene tolta dagli angeli, parlando dei credenti. Quindi viene tolta con gentilezza e dolcezza. Invece il miscredente, vedendo come uno che negava quello che c'era dietro una porta, non c'è un fuoco, non c'è un leone dietro a quella porta, e li si apre davanti e viene spinto da dietro. Chiaramente comincia a resistere, a bloccarsi, a far di tutto, onde passare dall'altra parte. E così anche l'anima di chi ha negato l'esistenza di Dio, chi ha negato l'esistenza degli angeli, chi non crede nell'aldilà, chi non crede nel giudizio. E allora quando vedrà quel momento, la sua anima sprofonderà nel suo corpo, cercherà di scappare. E comunque gli angeli che Dio ha incaricato di togliere quell'anima, sprofonderanno anche esse nel suo corpo, togliendola, e ciò non è assolutamente piacevole, anzi è doloroso. Quindi, Quindi quegli angeli che strappano le anime dei ribelli, dei non credenti, con forza e durezza. E poi non ha parlato solamente di questi angeli nell'inizio di questa sura, ha parlato anche di quelle che si occupano di organizzare o di seguire alcune faccende del creato. Come vedremo, ci sono gli angeli che si occupano della pioggia, quelli che si occupano del vento, quelli che si occupano di portare il messaggio, quelli che si occupano di porre la domanda ai defunti nella tomba, eccetera, eccetera. Quindi anche quegli angeli sono stati nominati. Quindi dopo questa parte in cui, Allah SWT ha giurato su sugli angeli, diversi angeli, Allah SWT in questa sura comincia a parlare dei miscredenti, coloro che hanno negato la risurrezione, il giudizio, e ha descritto il loro stato in quel giorno, quel giorno terribile, terribile per loro, soprattutto, e dice Dei cuori in quel giorno tremanti, i sguardi sono abbassati, ma saremo ritornati indietro, parlando sulla terra, perché consapevoli di essere morti, ormai dove ci portano? Mentre eravamo delle ossa già marcite, quindi come questo loro diniego, rifiuto di accettare questa verità. Poi questa sura continua, arrivando a palaci del Faraone e di Mosè, e quando il Corano, che è rivelato il profeta Muhammad, ci parla degli altri profeti, dimostra quella continuità e unicità del messaggio, che è lo stesso messaggio di adorare un unico Dio, che non associ gloria a Lui, che è la stessa parola che hanno portato tutti i profeti precedenti, e parlando del profeta Muhammad, di ciò che quei profeti anch'essi hanno dovuto affrontare, di resistenza, di rifiuto, di negazione da parte di tiranni, di ribelli, come lo era il Faraone. E immaginate ciò che affrontava il profeta Muhammad, portando il suo messaggio alla sua gente, dopo che era, e lo vedevamo, considerato, l'onesto, il sincero, il veritiero, cominciano a opporre resistenza nei suoi confronti, di maltrattare i suoi seguaci, di accusarlo di magia, eccetera. Quindi questo sicuramente ha fatto soffrire il profeta Muhammad, allora Allah subhanahu wa ta'ala, gli parla anche dei profeti che lo hanno preceduto, come Mosè o altri profeti, nella sura di cui stiamo parlando, suratunnazi'at, è una premessa che già riassume il contenuto, gli parlerà Allah subhanahu wa ta'ala del Faraone, quel ribelle, quel tiranno, che la sua tirannia, la sua ribellione, l'ha portato a dichiararsi lui Dio il Supremo, Dio l'Altissimo, e' no Rabbukum ala, che sono il vostro Dio l'Altissimo, così disse il Faraone e la sua gente. E oltre a questo, ha continuato nella sua tirannia, e la sua ribellione, e allora Allah subhanahu wa ta'ala, benché gli abbia mandato il profeta Mosè, che gli ha parlato con gentilezza, e che gli ha detto, non ti vuoi purificare, e mi permetti che io, affinché ti guidi verso il tuo Signore, quindi non è stato minaccioso, nei suoi confronti, né violento, il messaggio l'ha portato con gentilezza, malgrado ciò, si è ribellato, anche davanti ai seni magnifici di Allah subhanahu wa ta'ala, e i miracoli che ha visto, dimostrato da Mosè alaihi salam, Musa alaihi salam, allora Allah subhanahu wa ta'ala, per mostrare a noi, e a dirlo al profeta Muhammad sallallahu alaihi salam, e alla gente intorno a sé, che Dio è onnipotente, e non c'è nessun ribelle, né tiranno, che può resistere contro la sua volontà, o il suo castigo, allora dice, fa qasamahu allahu ahlakahu bilharaq, allora Allah subhanahu wa ta'ala, ha colpito il Faraone, e lo ha fatto annegare, lui e il suo popolo, erano i copti, quando parliamo di copti, non stiamo parlando, attenzione, che non sia motivo di confusione, né di conflitto, i copti, il nome del popolo originario dell'Egitto, quindi i faraoni sono i sovrani, e la casta dei sovrani, ma i copti è un nome, in questo caso, akhobat in arabo, intende gli abitanti, la popolazione dell'Egitto, che obbediva a Mosè, o era sottomessa a Mosè, in questo caso, per essere certi, che non stiamo parlando, dei cristiani copti, quindi che non si dica, ecco, il Corano, o le sue esegesi, qua parla di far male, o di distruggere, i cristiani copti, assolutamente no, in questo caso, perché si sta parlando di Mosè, al senso di lui, non è nemmeno ancora arrivato, il profeta Gesù, figlio di Maria, quindi, i suoi seguaci, non ci sono, e dice Allah, subhanahu wa ta'ala, ti è giunto il racconto di Mosè, al ataka, hadithu Musa, quando fu chiamato dal suo signore, nella sacra valle di Tuwa, in verità, si è ribellato, faqul, edilli, halakha ilan tazakka, non vorresti purificarti, fino al resto dei versetti, e poi la sura, questo capitolo del Corano, torna a parlare, della ribellione, della gente di Mecca, ai quali il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sta portando inizialmente, questo messaggio, wa ta'addatata la sura, an toghiani ahri Mecca, wa tamarudihim, ala rasulillahi, sallallahu alaihi wa sallam, la ribellione, davanti al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wa nakkarat hum, bi annahum adhafu, min kathir min makhlukat Allah, wa dakkarat hum, bi annahum adhafu, bi kathir min makhlukat Allah, e gli ha ricordato la sura, che sono loro, voi che vi state ribellando, questo messaggio, questo profeta, che vi porta la parola di Allah, ricordatevi, di quanto siete deboli, paragonati a tantissime altre creature, di Allah subhanahu alaihi wa sallam, e Allah se è onnipotente, e può far tutto, e può anche distruggere, altre creature che sono molto più forti, di voi, o più grandi di voi, o magnifici di voi, chiaramente voi non siete nulla, o non possiate nulla, di fronte all'onnipotesi di Allah, e quindi, voi siete più difficili da creare, o il cielo che ha costruito Allah, che ha creato Allah, la sua innalzata e la raddrizzata, e ha reso oscura la sua notte, e luminosa il suo giorno, e continua. Poi, la sura si conclude, parlando dell'ora, l'ora del giudizio, la fine del mondo, che i miscredenti, hanno considerato che non verrà mai, oppure, non li toccherà, è qualcosa che non li riguarda, cioè anche se verrà l'ora, verrà dopo secoli e secoli, e noi tanto non ci saremo più, no, anche se non ci sarete più, risorgerete, sarete giudicati per le vostre azioni, quindi hanno negato, e hanno tacciato di menzogna, il profeta che gli avvertiva, dell'arrivo di quest'ora, quindi, Allah ha detto, ti chiedono quando verrà l'ora, e tu non lo sai, tu sei solamente, perché è il tuo Signore che sa quando verrà, e tu sei solamente qualcuno che avverte, avverte coloro che temono quel momento, e il giorno in cui verrà, troveranno che non hanno vissuto tutta la loro vita, tutta la loro esistenza su questa terra, come se fosse una mattinata, oppure un pomeriggio, quindi tutta la vita che hai vissuto, quando verrà quel momento, la vedrai come se fossero pochi istanti, questa era la premessa di Surat An-Nasi'at, preferisco fermarmi alla sola premessa, per oggi, inshallah, come prima parte, visto il disguido tecnico, non vorrei che abbiate delle domande, o altre cose, che non passano, voi non vedete ciò che vedo io, vedo solamente nomi, non ci sono né commenti, né reazioni come c'è di solito, perciò, io vi ringrazio per la vostra presenza per oggi, abbiamo iniziato, già dal tramonto, una giornata benedetta, quella del venerdì, moltiplicate le vostre preghiere, sul profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, che le vostre preghiere su di lui, gli giungono, yawmul jumu'ah, e Allah subhanahu wa ta'ala, fa sì che il profeta, sallallahu alaihi wa sallam, risponde alle nostre preghiere, ai nostri saluti, e ci risponde, ci conosce per nome, il profeta, sallallahu alaihi wa sallam, allora, moltiplicate le vostre preghiere, i vostri saluti, sul profeta, sallallahu alaihi wa sallam, domani, inshallah, venerdì, khutbatul jumu'ah, e poi ci troviamo, inshallah, in serata, per continuare a studiare la vita, e gli insegnamenti, del profeta, sallallahu alaihi wa sallam, jazakumullahu khayr, jazakallahu khayr, yamani, e tutti voi, inshallah, condividete gentilmente, magari per radare contro, questa oppressione di Facebook, e far arrivare, inshallah, il messaggio, a tanti altri fratelli e sorelle, barakallahu fikum, spero domani, inshallah, wa sallillahumma wa barak, ala sallamu nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sallamu nabina Muhammadin, wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aduman inshallah.